Il progetto Parchi Agos Green Smart arrivano a Catania. Infatti dal 17 di settembre la cittadinanza potrà fruire di un parco Vulcania in piazza Aldomoro 4, rinnovato e riqualificato. Un nuovo modello di parchi urbani a quattro dimensioni, green, sport, smart e art, per comunicare i valori green e prossimità, alla base della strategia di sostenibilità di Agos che si esprime attraverso l'impegno di Agos for Good. Il verde del parco è stato rinnovato con le nuove alberature, la sistemazione, le potature delle siepi e un nuovo percorso piastrellato. Vulcania viene inoltre arricchita da un'area aggregativa con sedute e arredi urbani nuovi, oltre al rifacimento di parti della recinzione e alla cura e manutenzione di specifiche parti del prato. Il parco è da sempre uno dei luoghi più amati del praticare sport, per questo nel parco Agos Green Smart di Catania è stato ripristinato il campo di basket grazie al rinnovamento completo della superficie e delle parti rovinate, arricchito con un intervento artistico realizzato con resine adatte alle attività sportive. Gli street artist Gammy Gao hanno infatti realizzato un intervento di street art sul playground del campo da basket con colori, linee e forme che trasmettono tutta l'energia di questo sport, ispirandosi agli schemi di aree di gioco. Da domenica 18 settembre il parco verrà animato invece dallo Sport City Day, la prima iniziativa itinerante dedicata alla pratica sportiva praticata negli spazi urbani e nelle aree verdi promossa in tutta Italia da Fondazione Sport City. Al mattino sono previsti i percorsi di volley, badminton, rugby, basket, nord walking.